Franco Zammuto, nei giorni scorsi si è riunita Intercopa per fare il punto della situazione, per affrontare anche le recenti novità che hanno riguardato le indagini in corso nei confronti di Girgentiacque, l'ultima delle quali la decisione della Procura di Agrigento di revocare sostanzialmente la gestione degli sette depuratori a Girgentiacque. Ecco, in questa fase lei ritiene che stiano venendo ancora di più fuori le motivazioni per addivenire ad una risoluzione di questo contratto? Avere tolto l'affido dei depuratori sequestrati alla Girgentiacque ha del paradossale, cioè dovevano rispettare delle prescrizioni che la magistratura aveva dato per poterli continuare a fare funzionare, loro non hanno manco ottemperato a queste prescrizioni, la dice lunga su cosa intende fare la Girgentiacque di quella che è il suo obbligo e dovere di gestire l'affido di tutte le acque e di tutte le reti. Ma detto questo, noi come già abbiamo preannunciato, procederemo adesso a dichiararci parte civile nel processo, nel rinvio a giudizio che ha chiesto la Procura per quanto riguarda le tariffe taroccate, altro argomento gravissimo. In Italia molto spesso per ora si rivolge una grande critica alla magistratura perché non funziona. Noi riteniamo che qua dalle nostre parti, almeno sulla questione di Girgentiacque, l'unica cosa che funziona sia la magistratura, perché lì dove non si occupano i sindaci della questione dei depuratori oppure delle tariffe, se ne occupa la magistratura. E' attraverso la magistratura che noi stiamo avendo ragione delle proteste che abbiamo sollevato negli anni. E adesso siamo costretti anche ad agire su queste vicende, mettendoci in prima linea noi e facendo noi quello che deve fare l'ATI. Voi avete sollevato il problema di un'ATI che secondo il vostro giudizio non fa quello che dovrebbe fare. Allora, la questione delle tariffe, noi l'abbiamo sollevato spesso che c'erano le tariffe secondo noi taroccate. L'ATI sarebbe dovuta intervenire non solo per quelle del 2012-2016 fino al 2016 che in pratica sono state adesso dichiarate e diciamo sicuramente taroccate dalla procura, ma anche quelle che hanno approvato appena l'altro ieri. Cioè l'altro ieri si è riunita l'ATI, ha approvato le tariffe 2016 e hanno dato il contentino a tutta la provincia che ha consegnato alle reti di ridurre del 2,5% le tariffe del 2017. Sarebbero dovute intervenire su quelle del 2016 perché i prossimi aumenti saranno sulla base di quelle del 2016 e noi subiremo l'aumento invece che loro hanno fatto del 9,5% e l'ha fatto questo la Girgenti Acqua a seguito delle disposizioni dell'Aeghesi, ma non è intervenuta l'ATI a verificare se questi aumenti erano coerenti perché la prima che deve approvare quelle tariffe è l'ATI, l'ATI non l'ha fatto e adesso le subiamo. Voi sollecitate l'ATI, perché ritiene che l'ATI abbia questo atteggiamento? L'ATI intanto arriva nel giugno dell'anno scorso, noi ci saremmo aspettati che l'intervento del LATI avrebbe finalmente modificato l'andamento che ha mantenuto l'ATO, l'ATO di fatto si è assolutamente disinteressato delle questioni della Girgenti Acqua, addirittura approvando anno dopo anno i bilanci e quello che aveva fatto con delle relazioni che non avevano niente di coerente con quello che tutti i cittadini hanno vissuto in questi anni, dal 2007 fino ad oggi. Per cui noi ci aspettavamo dal LATI che ci fosse un intervento radicale come per esempio mettere tutte le reti della provincia insieme per non avere l'acqua dalla Sicilia Acqua che ce la fa pagare 0,70, come tutti sappiamo che è carissima. Bene, questo è un provvedimento che hanno fatto appena ieri ma che ancora non è manco concluso, tenuto conto che questo noi lo verificheremo entro dicembre di quest'anno. Quindi vuol dire che eventualmente se tutte le risorse idriche che abbiamo, se le mettiamo insieme molto probabilmente acquisteremo pochissima acqua dalla Sicilia Acqua e per cui risparmieremo grosse cifre. Ieri hanno provveduto a questo contentino di ridurre del 2,5% le tariffe del 2017 ma come ho detto noi subiremo quelle del 2016 che loro ieri hanno approvato così a sacco d'ossa senza valutare che quelle messe in discussione dalla procura di Agrigento sembra che debbano essere eventualmente, se così la magistratura deciderà, saranno taroccate e se loro approvano quelle e nel 2016 approvano quelle del 2016 vuol dire che c'è qualcosa che non funziona e quest'ATI avrebbe dovuto rilevarlo, tenuto conto che loro sono subentrati mentre la magistratura ci ha regalato tutte queste ipotesi di reato che loro non hanno manco tenuto in considerazione. Un'ultima battuta, come valuta le iniziative dell'amministrazione comunale di Sciacca che ha più volte dovuto diffidare sulla scia di quanto avveniva anche nel passato Girgenti Acqua per i disservizi? Sulle diffide io avrei qualcosa da dire e dare come suggerimento le diffide si fanno perché si ritiene che ci siano state disattese le regole contrattuali per la Girgenti Acqua non avrebbe senso fare una diffida se Girgenti Acqua opera legittimamente e quindi non si capisce perché se fanno le diffide, ogni diffida vuol dire che c'è una irregolarità nell'atteggiamento della Girgenti Acqua quella dovrebbe subire di fatto una penale quando si fa la diffida e non si comunica al Lati e non si pretende dal Lati che venga applicata la penale la diffida non serve a niente noi auspichiamo che tutte le diffide che vengono fatte siano accompagnate anche dalla irregolarità compiuta dal Lati dalla Girgenti Acqua di modo che il Lati possa provvedere solo in quel caso ha efficace e assenso la diffida altrimenti lascia il tempo che trova e significa soltanto dare un contentino alla città come per dire noi agiamo ma di fatto non si agisce ma quello che è importante che i sindaci e soprattutto noi consigliamo o noi come Intercopa chiediamo che il sindaco di Sciacca che è la seconda città della provincia all'interno del Lati faccia valere molto il peso specifico che Sciacca deve avere in questa vicenda è che quando noi parliamo di risoluzione non siamo degli sprovveduti che la stanno facendo così solo per caso un'ultima cosa, noi stiamo procedendo, abbiamo chiesto al Lati di fornirci tutta la documentazione per quelle che sono state i canoni concessori che deve pagare la Girgenti Acqua ogni volta ai comuni, anno per anno a questo fino ad oggi non ci sono state consegnate e sono stati superati i termini noi provvederemo e procederemo sicuramente anche a fare un esposto alla procura per capire come mai sulla legge della trasparenza visto che noi abbiamo compiuto il passaggio diciamo legittimamente non ci sono stati consegnati questi risultati per verificare se effettivamente i canoni concessori non sono stati adeguati agli aumenti così come le tariffe dell'acqua grazie